Siamo sul Partenio, grande Doni, 22 gradi, sta benissimo, e questo è il levaggio delle biciclette, grande, eccoci qua, Partenio, Vesuvio Mountain Bike, anche qui, che comincia? Alla prossima bellissimo, riposso una bella salita, abbiamo fatto una bellissima salita, noi andiamo verso Montevergine, noi ci facciamo lo chalet, un po' in tempo, sappiamo che lo conosci lo chalet, non c'è che non va così allora qui siamo, Campo San Giovanni, Campo Maggiore, non sappiamo bene, però uno dei due casi, però un bel campo si vede proprio bene, è un campo, ecco le antenne di Montevergine, signori da qui partono tutti i segnali l'ospedaletto da Pidone, l'attraversata del partegno di Giustino Fortunato qua praticamente... allora, 9 giugno 1878 mi pare un po' che siamo troppo ombre siamo un po' che ombre ora questo è lo chalet lo chalet alti distanzi alti distanzi l'attraversata del partito vediamo monte avallone forcetelle bellissimo posto siamo scesi dallo chalet che è una discesa abbastanza che avete visto prima di sicuro l'ho ripresa divertente da fare secondo me con l'enduro alcuni tratti sono bello poi e poi dopo qua è tutto asfaltato quindi si può finire pure con la macchina bellissima un posto ma noi la faremo in serrate una cosa bella un bel barbecue la ditta stay tuned ed eccolo qua tanto che voleva fare l'allenamento più duro si è tolto la sella direttamente con la sella sono buoni tutti però ti deve piacere senza sella e abbiamo incontrato il maestro con legname eccoci arrivati i signori allora bellissimo giro come il partenio sempre regala grazie a tonio ci vuole la compagnia facevamo per fare esatto dei giri belli di vera monta mai si abbiamo fatto penso un bel po di slivello pure tecnico belli lunghi salite lunghe divertite purtroppo per i quadricipiti purtroppo ecco se la salita di realizzate ciao a tutti ci vediamo fra poco per il pari le bici sono state montate adesso panino e panino che spacchetta davvero la mangiata è stata buona si voleva le aspettavano lì praticamente il giro è stato bello davvero bello bello ci siamo scaricati e ricaricati e adesso ci andiamo a prendere qui 39 gradi all'ombra mentre qui ce n'erano tipo 20 massimo però l'importante è che ci siamo divertiti e anche allenati ovviamente alla grande alla grande e mercedes attiva il massaggio lato passeggero un massaggio sul sedile nooo bel massaggio dopo l'attività io arrivavo qua andiamo a milano un attimo e torniamo giusto il tempo di un massaggio